Benvenuti in questa nuova puntata di PC Podcast, io sono Gianluca Lionetto e oggi parleremo di attacchi informatici usando documenti Office, l'allerta di Microsoft, come proteggersi e come evitarli. Sigla! Stai ascoltando PC Podcast, il primo podcast che ti svela i trucchi e le strategie per tenere alla larga virus e i problemi dal tuo PC. Senza parole tecniche e anche se di computer, non ci capisci niente. A cura di Gianluca Lionetto. Lo scorso mese Microsoft ha pubblicato una nota pubblica nel quale metteva in guardia tutti gli utilizzatori del sistema Office, Microsoft Office, per intenderci Word, Excel, PowerPoint, da documenti infetti di Office alterati. Questa tecnica viene già sfruttata da molto tempo dai pirati informatici per copiare gli utenti Windows, in quanto se si apre questo file di Office alterato, il pirato informatico, l'aggressore, riesce a prendere in ostaggio e prendere il controllo completo del computer della vittima. Quindi può guardare i vostri file, può chiedervi riscatto, può criptarvi tutto, può vedere i vostri conti in banca, può vedere cose legitate, può fare quello che vuole, sfruttando un semplice documento in Word. Classico, ti arriva un'email, ciao sei tu in questa foto, ciao ti ho appena mandato un PDF, ciao ti ho appena mandato un file in Word, ciao ti ho appena mandato un documento in PowerPoint, no il PDF no, perdonatemi. Quindi, aprendolo, il computer viene infettato da questo virus e anche se non ve ne accorgete, magari siete già infetti. Quindi non è detto, attenzione, apro e chiudo parentesi, che voi non siate già infettati da un virus macro di Office, ok? Non è detto che aprendo questo file il vostro computer esce un test sul computer e dice no cavolo mi è infettato. No, può essere che già voi siete infetti, può essere che se aprite questo file il vostro computer si infetta, il pirata informatico si fa gli affari suoi, ma non necessariamente voi vi accorgete di essere infetti, ok? Anche se avete l'antivirus. La vulnerabilità, insomma, è molto seria, perché tutti i vostri dati, tutte le vostre cose sono a rischio, ok? Però va anche detto che con i giusti accorgimenti tutto questo può essere scongiurato ed evitato. Cosa sono quindi le cose da fare e gli accorgimenti che dovete prendere per evitare di venire infettati da questo virus? Allora, punto primo, come non mi stancherò mai di dire, è il computer deve essere aggiornato, ok? Quindi dovete avere l'ultimo sistema operativo installato, ma aggiornato, ok? Non mi basta che avete Windows 10 e poi non lo aggiornate da sei mesi, ok? Voi dovete avere il computer sempre aggiornato. Due, dovete avere un buon software antivirus, non quelli gratuiti. Non tutti gli antivirus sono uguali, dovete sempre avere un antivirus che non va a intaccare le prestazioni del sistema operativo, perché se voi avete un computer con dei virus, mi installate l'antivirus e poi l'antivirus appesantisce ancora di più il computer, poi sento dire l'antivirus non va bene perché mi appesantisce il computer. Quindi dovete sempre stare attenti a che tipo di antivirus, quindi no gratuito, sì pagamento, ma anche là a pagamento dovete farvi consigliare e dovete scegliere che tipo di antivirus. Se avete dubbi, domande, chiamateci o scriveteci qua sotto. Ma soprattutto, terzo punto fondamentale, dovete avere l'ultima versione di Office installato, ok? Apriamo il capitolo. Office, Microsoft Office è il software che molto spesso viene confuso con Windows. Office è il pacchetto Office, quindi Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, ok? Sono quei software, quella suite, che serve per la produttività, ok? Per fare i calcoli, per fare le lettere, per fare le carte intestate, tutto quello che volete. Quindi è utile agli uffici, alle persone normali per leggere e a scuola per studiare. Quindi dovete avere l'ultima versione di Office. Microsoft rilascia più o meno, più o meno, una versione di Office ogni tre anni, ok? La versione quella che ha fatto più scalpore è stata quella di Office 2007, che il 99% degli utenti ha piratato, quindi tu che mi stai ascoltando, tu che mi stai ascoltando. Se hai Office pirata, attenzione perché non va bene, perché se hai Office 2007 e ti ricordi di non averlo comprato o te l'ha regalato qualcuno, te l'ha installato qualche tuo amico, qualche tuo vicino di casa, accenditi un campanello d'allarme perché oltre ad avere un sistema operativo vecchio di 15 anni, hai anche Office pirata, quindi non è protetto assolutamente. Poi dopo il 2007 c'è stato il 2010, anche quello l'ha piratato assolutamente da tutte le persone. Il 2010 è arrivato Office 2013, 2016, 2019, tra un po' la suite 365 e tra un po' arriverà Office 2021. Quindi tutti quelli, alzino una mano, tutti quelli che non hanno Office 2019 installato sul proprio computer, voi siete a rischio totale, ok? Ricordatevi che Microsoft non consente l'aggiornamento automatico da una versione all'altra, quindi se comprate il 2013, se comprate il 2016, Office non verrà aggiornato il 2019, dovrete comprare il 2019, ok? Perfetto. Quindi se voi non avete la versione 2019 o la 365, che è quella in abbonamento, allora siete a rischio perché voi, i vostri computer, i vostri dati, la vostra privacy, i vostri conti correnti, le vostre carte di credito possono essere a rischio perché è un software che non è più aggiornato, ok? Quindi dovete per forza passare a un sistema, a un software, scusate dico sistema, ma un software aggiornato e attualmente è Windows 2019, quindi se hai una versione di Windows aggiornata, un antivirus, quindi se segui tutti i consigli, ma hai una versione vecchia di Office, non va bene, non va bene. Se hai Windows 10, non hai l'antivirus, e hai Windows e hai Office aggiornato, non va bene comunque perché non hai l'antivirus. Gianluca, quindi devo comprare Office nuovo? Come faccio per aggiornare Office? Allora, la versione di Office attualmente più venduta è la 365, che è una versione in abbonamento. La vecchia e cara Microsoft si accorta che tutti gli piratavano Office perché all'epoca comunque costava dai 5 a 600 euro, ok? Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un abbonamento, un abbonamento che viene più o meno 99 euro all'anno, ok? Se per la versione media paghi 99 euro ogni anno, ok? Ogni anno, vuol dire che dopo 5 anni hai speso 500 euro di Office. Dopo 10 anni tu continui a pagare Office e dopo praticamente 3 anni ti saresti comprato già un computer nuovo. Quindi le possibilità sono o fate l'abbonamento direttamente sul sito della Microsoft, consapevole del fatto che pagherete un abbonamento da 99 euro all'anno, oppure potete portare il computer nei nostri negozi, nel nostro negozio, dove in base alle offerte del momento i nostri tecnici, io, Daniele o i miei collaboratori, vi consiglieremo la versione migliore da installare e vi faremo soprattutto un prezzo one shot, ok? Un prezzo una volta, una tanto, un stop. Quindi noi non vi installeremo Office 2019-2022, quello che volete, in abbonamento, ma pagherete una sola volta. Quindi questo è il servizio che vediamo noi nell'installare Office, nel controllare poi anche che il vostro computer sia aggiornato, che abbiate un buon software antivirus e solo dopo vi aggiorneremo Office. Quindi questo podcast per chi è? Per tutte le persone che non hanno un Office aggiornato e vogliono installarlo per essere sicuri, essere tranquilli e soprattutto risparmiare sul costo dell'abbonamento. Quindi se avete il vostro computer, avete dubbi, domande e volete sapere qual è la soluzione migliore per proteggere il vostro computer, se volete capire se la vostra versione di Office è una tra quelle incriminate che potrebbe potenzialmente aprire porte ai pirati informatici, volete capire se avete l'ultimo sistema operativo aggiornato, oppure avete comunque il dubbio, volete essere tranquilli e volete dormire sogni e tranquilli che la vostra tesi, le vostre foto, tutte le vostre cose e la vostra privacy sia preservata, portateci il computer, ricordatevi che le diagnosi da PC Protetto sono gratuite, i nostri tecnici e io personalmente guarderò il vostro computer e saprò dirvi il risultato finale, saprò darvi una diagnosi, saprò dirvi se va aggiornato, se non va aggiornato, se potete andare a casa tranquilli, se dovete aggiornare qualcosa. Nel caso poi il vostro Office dovrà essere aggiornato o dovrà essere sostituito perché è troppo obsoleto, sappiate che noi di PC Protetto abbiamo delle super offerte riservate ai nostri clienti e non per aggiornare il pacchetto Office a un prezzo molto 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 più economico di quello che lo propone la Microsoft in quanto rivenditori. Quindi per qualsiasi cosa contattateci, chiamateci e vi aspettiamo. Ciao!